In questo momento stiamo effettuando lo spurgo, stiamo scaldando la caldaia, tutto quanto questo tubicino qui e la tazzina e nel frattempo abbiamo già il braccetto pronto con il nostro caffè mettiamo il nostro bel braccetto e inizia l'estrazione del caffè come potete vedere è molto 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 cremoso è uno spettacolo, perché non l'avessi mai provato vi consiglio di assaggiarlo Camira, e questo che voi vedete si chiama Camiro Grazie